Eccolo qua. No, dicevo, visto l'intervento del collega Figliomeni, chiedo se l'emendamento in discussione è il 13 o il 14. 14, consigliere. Perfetto, allora grazie della conferma, perché in base alla numerazione in mio possesso, che avendo ritirato poco fa dalla segreteria dell'Assemblea ritengo sia quella corretta, questo emendamento è un emendamento che prevede la rimodulazione di 192.952 euro dai livelli... Quello è il 15, consigliere. Io ho 14, Presidente. Allora mi hanno fornito... Hanno una numerazione, vanno progressivamente più avanti per il primo emendamento di giunta. Ok, perfetto. Allora, io immagino, ritornando al precedente, quindi quello di 348.000 che al municipio non siano impazziti, ma che evidentemente questi siano fondi che sono oggetto di un'economia. Vorrei dire che questi fondi in questo periodo non sono stati spesi, per cui vengono messi a disposizione per altro. Quindi riterrei che l'invettiva contro la maggioranza su questo intervento sia quantomeno inappropriata, visto che, ripeto, non viene tolto nulla a nessuno, ma in realtà dei fondi che sono oggetto di economia vengono messi a disposizione, come giusto che sia, per fare altro. Questo è il significato di questo emendamento, per cui è ovvio che la maggioranza voterà sia a questo emendamento. Grazie.